Siamo andati a Barcellona quest'anno con le ragazze per un concorso internazionale, il Barcellona Dance Award e siamo tornati molto soddisfatti per una serie di premi che abbiamo preso. Siamo riusciti ad avere il primo posto nel classico e il primo posto nel moderno e poi il premio che ci ha fatto più piacere è stato l'Award, perché lì lo chiamano così, per la miglior scuola italiana presente, quindi è stata una bella soddisfazione per le ragazze. Per le bimbe erano 5 piccoline di 9-10 anni, poi c'erano 6 ragazze di 12 e poi il gruppo delle più grandine che hanno dai 14 ai 16. Quindi è proprio anche un'esperienza umana, molto bella per tutte le partecipanti. Ho visto non solo per noi, per tutti. C'è stata questa aggregazione che in un momento un po' così difficile del mondo adesso, dove si vedono spesso cose brutte, vedere tutti questi giovani insieme è stato molto bello. E quindi torniamo a casa contenti, soddisfatti. Insomma, fa anno si è fatta onore a Scuola Vaganova, ha avuto risalto e siamo contenti. Mentre l'altro ragazzo che ha curato le coreografie di Moderno, l'insegnante, è Francesco Gattoni, che con le altre due coreografie ha vinto il premio di Moderno. È la scuola di danza italiana che ha ottenuto il puntezzo migliore. E te è Vaganova! Aaaaaah!